Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo il Tribunale di Napoli, l'ex premier Giuseppe Conte sarebbe già al suo secondo mandato e quindi ultimo mandato da presidente del Movimento 5 Stelle. Potrebbe essere la fine dell'avvocato del popolo. Il Giuseppe potrebbe tornare all'università per sempre e sparire dalla politica italiana. Certo, credo che gli italiani non sentano propriamente la mancanza di Conte. Ma vediamo come finirà questa storia. L'avvocato Lorenzo Borre nel corso dell'udienza del 7 giugno avrebbe messo in evidenza il ruolo di Beppe Grillo che avrebbe cooptato Conte come leader dei 5 Stelle. I legali 5 Stelle sosterrebbero invece che la votazione, quella tenutasi a marzo sullo statuto e sull'elezione del presidente, sarebbe stata la seconda e quindi aperta a più candidati. Non vi sarebbe stata dunque la necessità di un intervento del garante. Vedremo quello che succederà. Vi terrò informati se Conte sparirà dalla politica o no. Grazie a tutti e arrivederci.